Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti anche nello studio di CR2 Produzioni e benvenuti nel primo appuntamento di 4 chiacchiere al CR2 Studio. Benvenuti in questo primo appuntamento di 4 chiacchiere al CR2 Studio, prima ospite di questo nuovo format, una giovane ovadese da tenere sotto d'occhio perché ragazzi è veramente in gamba, è un piacere presentarvi Martina Bianchi. Ciao Martina come stai? Tutto bene, grazie di essere venuta qui, ero molto curioso di conoscerti un po' di più perché insomma siamo entrambi di Ovada ma non ci conosciamo così bene, insomma abitiamo entrambi qui quindi insomma ci vediamo ma non ci conosciamo così bene. Ci siamo visti in occasione del Vini e Tartufi qui a Ovada, precisamente dal baffo si impregna dove c'è stato diversi talk in ambito vini ma in ambito anche sostenibilità e qui sei entrata in gioco tu. Allora so che quello che stai facendo non è facilmente identificabile con un nome non si può mettere dentro una categoria, però ti chiedo di dirmi insomma in poche parole chi sei e che cosa stai facendo in questo momento. Ok, allora partiamo dal fatto che io sono vegetariana, quindi tutto è iniziato da lì. Ora sto lavorando con le api, faccio apicoltura, però volevo un po' raccontarti da dove sono partita. Esatto, perché così almeno infatti si capisce bene step by step tutto quello che ho fatto. Allora quando ero piccola ero sempre in giro con mio papà nei boschi a cercare i funghi, mi portava i pesci che pescava, me li portava vivi, io solitamente davo i nomi a questi pesci e poi ogni volta non li mangiavo mai perché anche una volta mi ha parato un polpo che l'ho chiamata Gigia, non l'ho mai voluta mangiare, ogni polpo che vedevo oddio c'è Gigia e non lo mangiavo. E come reagiva lui, scusa se ti interrompo? Si arrabbiava molto. Quindi il primo sconto già da bambino. No, si arrabbiava molto no, però mi diceva dai ma mangialo, dai e Gigia, dai e Gigia. Io dicevo no, non lo mangio lo stesso. Però comunque la carne la mangiavo, i pesci se non gli davo un nome li mangiavo lo stesso e da lì mi sono anche un po' appassionata la natura perché con mia nonna che abitava Orsara andavo con lei in primavera dal fiorista a comprare questi fiori con lei, mi faceva vedere tutti i fiori, i nomi, lei poi se li metteva in giardino, sul balcone, quindi mi piaceva proprio andare con lei e vedere cosa faceva. Quindi da lì anche il lato appunto della natura, dei fiori, delle cose. Poi quando sono diventata più grande ho iniziato a non mangiare certi tipi di carni, quindi il coniglio, il cavallo, diciamo quelli un po' più tè, cioè che li guarda, dici piccino, c'è un coniglio, sì. Insomma legato a un discorso che tu vedevi questi animali. Esatto, tutto è partito dal fatto che ero molto sensibile per gli animali. E poi quando sono diventata più grande che dove lavoravo al bar, un giorno mi è partito proprio, ho detto, mentre aprivo proprio un pacchetto di prosciutto rovagnati, ho detto ma perché devo mangiare? Cioè non mangio il coniglio ma mangio il maiale. Alla fine è la stessa cosa. È comunque un animale. Quindi ho smesso di mangiare tutti gli animali, però non da un punto di vista tanto etico, ma più che altro per la mia sensibilità, quindi ero molto, mi fa tenerezza, non lo mangio. Ok. Più avanti, quando poi non facevo casa quello che mangiavo, quindi comunque anche per la mia salute non andava bene, avevo fatto delle analisi del sangue che erano completamente sballate. Ok. Così ho detto devo mettermi e fare qualcosa, cioè devo iniziare a mangiare, non mangio la carne ma devo compensare con legumi, con semi e tutto il resto. Così ovviamente oltre a iniziare a cucinare in maniera sostenibile, nel senso che mi andavo proprio a cercare tutti i legumi che arrivavano da quell'azienda agricola, le uova le prendevo solo da un contadino, tutte queste cose qua, mi sono poi andata anche a vedere tutti quei video terribili di allevamenti intensivi. Ok. E quindi lì poi c'è stata anche una consapevolezza diversa, nel senso che oltre al farmi tenerezza creano anche un danno molto grosso per l'ambiente, quindi poi anche quello mi ha aiutato poi. Facendo quello ovviamente ritornando alla natura come facevo da piccolina perché poi io ho lavorato, ho fatto la segretaria, ho lavorato sei anni in un bar, quindi non è che avevo così tanto tempo da dedicarmi di nuovo ad andare per funghi, andare a cercare i fiori. Mi sono fermata e ho detto però è quello che mi piace, cioè non mi è mai arrivato direttamente quella la tua passione, però ripensandoci. Hai capito. Step by step ci sono arrivata e da lì ho iniziato di nuovo a studiare, a comprarmi dei libri, ad andare dalle vecchiette in giro, a chiedergli ma questo fiore cos'è, questa cosa come si fa, quindi a fare olioliti, cose così che comunque andavo a prendere spunti in giro. Mi sono messa poi lì due anni al computer con i libri eccetera, a studiarmi proprio ogni proprietà di ogni singola pianta, tutte queste cosine qua. E poi ho conosciuto un signore che mi ha detto ma ti andrebbe una volta di venire con me a vedere le mie api perché io ne ho tantissime, almeno mi aiuti. E io gli ho detto non lo so perché magari ho paura, boh. Sono andata lì e sono rimasta affascinata nel senso che mi piaceva proprio l'ambiente, lui subito stai calma, io proprio ero in pace, ero in mezzo a un bosco con tutte queste api che... E era contatto con la natura insomma. Sì, sì, proprio ero così. Sì, quindi poi vado una volta, vado due volte e lui mi dice ma non le vuoi mettere due arnie? E io ho detto mettiamole. Poi le ho messe tre. Sì, e quindi no, da lì ho iniziato anche a fare apicoltura. Adesso vabbè le ho messe a giugno, quindi non è una vita che faccio apicoltura, però ne vorrei mettere altre, mi piace proprio tanto e... E questo sì. Quanti spunti. Allora, adesso ti riempgo di domande. Ti ho parlato la rapica però. Hai fatto bene, anche perché ti dico una cosa. A differenza di YouTube, dove ti permette di caricare un video, diciamo in evidenza, per tutte le persone che finiscono sul tuo canale YouTube e lì volendo uno potrebbe caricare un video che ho scritto chi sono e cosa faccio e in quel video, che può durare un minuto, due, tre, quanti si vuole, Instagram ti dà questa possibilità. Quindi diciamo che capire che cosa fa un influencer o comunque una persona su Instagram è un po' più complicato. Se il profilo è ben fatto si capisce, se il profilo non è ben fatto non si capisce, ma anche se è fatto bene, secondo me la biografia e i contenuti che vengono fatti è un po' difficile. Dobbiamo anche andare a recuperare contenuti vecchi. Infatti io per andare un po' a ripercorrermi nella tua storia, sono andato fino al 2018, fatto, che c'erano tartarughe, che mangiavano le fragole nel mio giardino. Esattamente, quella fotolumista. E poi mano a mano mi sono, diciamo che ho vissuto, tra virgolette, la tua storia per quello che tu hai condiviso, guardando tutti i post. Però quello che tu mi hai appena detto ha riassunto un po' chi sei, cosa stai facendo. Che ho iniziato da poco a trasmettere questa cosa sui social. Esatto, esatto, questa è una cosa che ho notato. Ma no, tipo mi sono anche andata a cercare, non so se hai visto una delle ultime foto che ho messo io appunto in questo negozio, di quando ero piccola, che ero dal fioraio, cioè ora mi sto chiamando anche mia zia, tipo cerca delle foto, perché non l'ho mai raccontato e poi è stata una cosa che mi è arrivata proprio, cioè non è che sono arrivata subito la mia passione. Certo, certo. Quindi vorrei ripercorrere anche un po' tutte quelle cose che ho fatto. Unire i puntini. Sì, non c'è anche un'altra storiella che volevo cercare di nuovo. Tipo? Quando andavo da mia nonna d'estate a Orsara, di solito c'era questa cosa, non lo so, la facevano i vecchietti di lì, non so quanti abiti erano lì comunque. Andavo lì d'estate e quando pioveva si preparavano tutti il giorno dopo ad andare a raccogliere tutte le lumache in giro per il paese, perché lì è tantissimo umido, e le volevano prendere per mangiarsele. Ok. Io però cosa facevo? Perché non volevo che le mangiassero. Le raccoglievi? Mi svegliavo alle cinque. Andavo a prendere tutte le lumache, avevo tutti questi sacchettini di plastica azzurro, le andavo a prendere tutte e le portavo nel giardinetto di mia nonna, gliele svoltavo tutte lì e poi lei si svegliava e diceva... Lumache ovunque. Lumache ovunque, però io già lì avevo la cosa, vedi, di dover salvare gli animali in qualche modo. E questa cosa mi affascina parecchio perché, infatti una domanda che voglio farti è legata un po' al discorso che anche la mia ragazza ha scelto di non mangiare la carne. E lei credo che abbia preso consapevolezza di questa sua scelta perché si è imbattuta comunque come te, ha guardato determinati video in cui si è resa conto di quello che viene fatto soprattutto nei centri di allevamenti intensivi, ok? Secondo te esiste un momento o un'azione che porterebbe tutta l'umanità a diventare vegetariana oppure no? Nel senso, perché tutti mi dicono, compresa la mia ragazza, se tu guardassi attentamente quei video smetteresti di mangiare carne. Io sono onesto, sono ipocrita, quindi a me la carne piace, la mangio. Ma quando vedo o vengo a conoscenza di, appunto, per lavoro abbiamo fatto anche dei lavori in centri di allevamento o allevamenti bovini, quindi per poi produzione di carne, sono onesto, andando in quelle realtà mi sono sentito in difficoltà perché, come dicevi tu, vedi l'animale che hai di fronte e poi te lo immagini su un piatto e la cosa a me ha dato particolarmente fastidio, ma non così tanto da farmi smettere di mangiare la carne. Quindi non so se magari guardando un video invece no, l'indomani io smetto di mangiare la carne. Secondo te può esserci? Secondo me no. Cioè nel senso, tante persone che guardano quei video e che dicono, io poi non sono una che li fa vedere quei video perché non mi piace, cioè la mia è una scelta, ho sempre, sono sempre stata una vegetariana che dice io non la mangio e poi tu fai quello che vuoi. Perché tanto a star lì a dire non mangiarla non arrivi a niente, vai solo a litigare, a fomentare la cosa. Però quelli che hanno visto dei video del genere dicono, io lo guardo però l'uomo ha sempre mangiato la carne e quindi deve mangiare la carne. O poi ci sono quelli che ti dicono, però se tu non mangi la carne poi stai male. però se abbiamo sempre cacciato, siamo carnivori, dobbiamo essere, sono tutti discorsi che mi fanno, cioè che ovviamente io mi sono ritrovata a tavola a parlare di queste cose, che l'unica cosa che potrei, e infatti lo dico spesso nei miei social, cercare di mangiare un tipo di carne proveniente non da allevamenti intensivi, ma dalle piccole realtà che ci sono qua in zona o comunque anche non in zona, però almeno sei consapevole che quell'animale ha fatto quel tipo di vita, serve a quello perché comunque serve a quello e quindi però almeno non ci sono delle schifezze dentro perché sennò mangiano tutti antibiotici e cose del genere e poi anche quello e almeno ha avuto, ha vissuto una vita da animale felice, cioè è stato bene. Io l'ho sempre detto, se non fossi così sensibile e dovessi scegliere, mangerei solo quella carne lì. Ok, però un'altra cosa che ti chiedo, cioè quanto carattere deve avere una persona che decide, che sceglie di non mangiare più carne rispetto a tutte quelle situazioni in cui poi si verrà a trovare, perché comunque alla nostra età e nel contesto storico in cui viviamo, sì che adesso diciamo che il mondo, cioè molte persone hanno aperto la mente. Era molto più difficile prima andare in un ristorante a mangiare e mangiare la carne. Esatto, ma banalmente anche dieci anni fa andare a fare la grigliata a Ferragosto piuttosto che a Pasquetta con gli amici, se qualcuno saltava fuori dicendo io non mangio la carne perché non voglio mangiare gli animali, probabilmente veniva deriso tutto il giorno. Sì, io ho fatto un conto, sono vegetariana più o meno da 7-8 anni, quindi non è poco e all'inizio era, ora è normale, cioè o lo sanno comunque che sono vegetariana, però all'inizio era... Eh, come è stato? Non è che ti prendevano in giro, perché non è che si può dire così, però è arrivata la vegetariana rompi scatole, è quello... cioè è sempre così. Poi, prima era molto più difficile andare a mangiare fuori e... Ok, esatto. Infatti volevo poi anche riprendere un capitolo su una cosa, ma volevo chiudere su questa cosa del carattere, nel senso che io mi rendo conto che nel momento in cui tu scegli di fare una... prendi una scelta che va controcorrente, automaticamente comunque hai gli occhi non sempre puntati addosso, ma in determinate occasioni sì. A me quella è una cosa che mi peserebbe dover giustificare la mia scelta, non so come dire, cioè se io decido che non mangio più carne, non vorrei neanche forse che mi venisse chiesto, che mi venisse fatto notare questa cosa, cioè non mangio carne, punto. Se poi tu mi chiedi una motivazione, il perché, sei curioso, ma non perché vuoi capire quanto sono stupido, ma perché davvero ti interessa il motivo, allora ho un altro discorso. Però mi sembra di percepire quando magari appunto capita una soluzione di questo tipo, che il 90% delle persone che fa domande a chi non mangia carne è solo per cercare di capire quanto sei strano rispetto alla... Sì, no, no, ma infatti te lo chiedono. Cioè va già un po' meglio, però... Sì, ora va meglio, però sono poche le persone che l'hanno chiesto perché veramente sono curiosi e veramente vorrebbero, non provare, ma... Approfondire. Perché secondo me devi essere, devi avere proprio una spinta forte per farlo, perché poi vai a fare aperitivo, c'è quella cosa lì, fai quello, dici vabbè, cerco di mangiare, perché io conosco tante persone che mi dicono cerco di mangiarne meno. Però questo significa che comunque quando hai quelle occasioni... Lo fai. Lo fai e quindi non hai... Secondo me devi farlo quando veramente ti senti pronto. Io avevo questa idea che volevo smettere di mangiare tutta la carne, ma non l'ho mai... Non l'avevo mai affrontata. Proprio quel mattino mi sono... Ma da un giorno all'altro mi sono svegliata, ok, io non mangio più la carne. Però ho sentito proprio qualcosa dentro che mi diceva basta. Ok, è una cosa che hai comunque sentito dentro. No, in realtà quel pacco di prosciutto mi ha fatto scattare qualcosa, quindi... Sì, ok, è la molla, però eri già arrivata, diciamo, a destinazione. Sì, no, no, sì, però poi da lì ho detto io non ne mangio mai più. Poi i primi giorni, infatti i miei amici, ma questo dai, cioè, ma è da due giorni che sei vegetariana. Eh sì, ho capito, ma... Basta. Basta. E non mi è mai mancata la carne in nessun... Ok, non c'è nessun tipo di alimento. No, 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 mai, mai. Torniamo al discorso che hai fatto prima, ovvero che andare anche nel ristorante e trovare un menù anche vegetariano oggi è un po' più facile, però io rimango stupito. Io sono un amante della montagna, cioè, andrei tutti i giorni a sciare, andrei tutti i giorni a fare mountain bike, insomma. Però mi rendo conto che nei contesti montani difficilmente nelle bite soprattutto trovi un menù decente per chi non mangia la carne. E sono onesto, vedo proprio che, diciamo, la comunità montana in generale è ancora un po' chiusa rispetto al discorso probabilmente di chi non vuole mangiare la carne o di chi vuole essere vegetariano. Questa cosa a me è un po' dispiace perché comunque nel 2022 oramai c'è una grande percentuale della popolazione che non mangia più carne, quindi secondo me tutti dovrebbero adoperarsi per dare la possibilità a tutti di mangiare. Tu come la vedi questa cosa? Ma, allora, secondo me, io sono andata pochissime volte in montagna, l'ommetto, perché ho sempre giocato a pallavolo e nei weekend non ci sono mai andata. Partito. Ora ho iniziato a sciare tre volte, nelle piste dei bambini. Che è comunque un inizio. Sì, che è comunque un inizio, però non lo so. Secondo me, piano piano, cioè è una cosa che tutti comunque i ristoranti o i posti dove vai ci mettono un po'. Dipende poi che mentalità c'è in quel contesto. Forse in montagna non vedono tanto il brutto che c'è qua, non hanno queste grandi città. La montagna la giustifica un po', perché ha quei piccoli allevamenti che sono lì. Certo. E comunque quando, anche con le poche volte che sono andata, era bello comunque conoscere la storia di chi ha delle baite, perché comunque sai che tutti i prodotti sono comunque chilometro zero, vivono nell'aria completamente pulita. Quindi loro li posso anche capire. Però, no, in realtà io ho trovato tutti i piatti di formaggi quando sono andata in montagna. Ok, però solo formaggi. Cioè, che mi dirai ci sta. Sì, però io già i formaggi li mangio, ma ci sono tanti anche che non li mangiano. Poi, ovviamente, se andiamo nella sfera vegana, nei casi più, esatto, nei casi più estremi diventa difficile, probabilmente per forza. Non lo so, io ho fatto forse più fatica quando sono andata in Calabria. Ok. Che lì, o una volta Bologna, anche. Bologna e Calabria, lì sono tutti i piatti, ti porto a mangiare il piatto tipico. Vabbè, Bologna, sì, tortellini, cose. Anduja. In Calabria, oh, l'anduja, oh, così. Anche lì non lo mangio, non lo mangio, non lo mangio. E poi, ah, cosa mangi? Cosa maria? Flippa. Ma soprattutto i vecchietti sono sempre lì a... Ah, beh, certo. Perché proprio non capiscono. Cioè, io mi ci sono messa tante volte con dei signori a parlare di... Addirittura ti sei messa... Sì, sì. Ma ecco, ma tu poi ci sfoci nel litigio? Nel senso, cioè... Dipende. Ah, ok, dipende. No, vabbè, no, no. Litigio no. Cioè, nel senso, io poi non sono mai una che... Cioè, quando vado al ristorante non lo dico neanche che sono vegetariana. Ok. Vado lì, quello che c'è mi danno. Ovvio che se poi ho un menù fisso con cose che mi dicono già, allora lo dico. Chi è della variante, certo. Però se invece vado così diretta non lo dico mai. Io quando sono invitata a cena, dipende dove vado, ma se non li conosco, quando arrivo li vedo e piuttosto non lo mangio. Certo. Matrimoni? Ai matrimoni l'ultima volta l'ho detto. Ok. Perché la sposa era vegetariana. Ah, ecco, ecco, ecco. Sì. E ha fatto due menù, quindi l'ho detto. Però non lo so, questa cosa che mi hai chiesto della montagna secondo me ci arriveranno piano piano, però io loro li vedo molto puliti. Certo, ce la fanno in buona fede, diciamo. Sì, secondo me sì, perché non hanno davvero le cose che possiamo vedere noi, che abbiamo vicino anche tutti gli allevamenti, le cose. Cioè, hanno molto spazio aperto dove tenere tutti gli animali e le cose, quindi... E cosa rispondi a tutte quelle persone che ti dicono, eh, però immaginati tutti i lavoratori che lavorano nel mondo della produzione di carne intensiva? E... Cosa gli rispondi? Io ho una mia risposta, però detto che, insomma, sei tu dall'altra parte in questo caso. Non lo so. Cioè, nel senso, secondo me, sicuramente non è che si può cambiare dal giorno all'8. Tu lavori lì e dal giorno... Da domani non ci lavori più lì. Certo. Io, se dovessi lavorare lì, cosa molto difficile da pensare. Certo. Sicuramente cercherei di cambiare qualcosa. Cioè, imponiti tu che vedi tutti i giorni quelle cose di mettervi insieme e cambiare qualcosa. Cioè, tipo maltrattamenti forti. Certo. Perché per far star zitti i maiali li devi strappare i denti e tagliare la coda? Perché devi farlo? Certo. Io mi metterei... Cioè, l'unica cosa che penso è questa. Non so cosa pensi tu. Sì, no, no, io credo appunto, no, esatto, che secondo me dovrebbe essere un processo anche... Perché adesso non abbiamo ancora toccato l'argomento della sostenibilità anche ambientale. Cioè, dell'impatto ambientale che ha la produzione di carne. Comunque anche quello è uno dei motivi per il quale, in effetti, bisognerebbe ridurre... Ne abbiamo parlato poco, ma è anche quello. Esatto. Quindi io credo che dovrebbe esserci anche un incentivo da parte del governo, in questo caso in Italia, nel cercare di agevolare la nascita di aziende che producono diversamente, che non producono carne. Per esempio, spesso mi sento dire, beh, ma vai in quel bar? Eh no, ma certo che c'è la variante vegetariana e ti trovi il tofu comprato nel supermercato più marcia della storia e dici, ok, va bene. Però mi spettava qualcosa di più, perché in effetti, appunto, la mia ragazza non mangia la carne e io ho provato diversi piatti vegetariani che comunque sostituiscono il piatto di carne e sono buoni. Quindi secondo me ci potrebbe essere una nuova crescita o una nuova economia dietro a questo movimento. sicuramente ci sono tante cose dietro, cioè stanno già facendo tante cose, lo vedo, fanno la carne fatta da vegetali, tante cose. Però non lo so, non dico per gli animali, ma secondo me la gente deve riuscire un po' a essere consapevole sull'aspetto appunto, come dicevi tu, dell'ambiente. Proprio questo secondo me è la cosa che può spingere la maggior parte delle persone, perché si guardano l'animale e dicono sì, dai, l'ho sempre mangiato, lo continuerò a mangiare. Però magari guardando che cosa sta succedendo al nostro mondo. Esatto, perché diciamolo per quelli che non hanno ancora, che magari non conoscono bene perché mangiano la carne senza porsi il problema. Qual è poi il primo impatto che ha la produzione di carne? Il discorso che le mucche producono metano, mettono metano, esatto, CO2, quant'acqua bevono, un tot di mucche. Esatto, mi ricordo che c'era, adesso non mi ricordo, mi chiedo anche scusa, ma c'era un dato scioccante su quanti litri di acqua servono per procurare una bracciola. Sì, tantissimo. Mi ricordo che soprava le migliaia. Eh, non mi ricordo, sì, anche in realtà io all'inizio seguivo un sacco di pagine di allevamenti intensivi che facevano anche questi paragoni numerici. Poi mi apparivano video troppo brutti, allora ho detto, sì, ti sei fermata. No, però sì, produrre appunto una bistecca sicuramente consuma molta più acqua di mangiare un piatto di lenticchie con dei semi, non lo so, o qualcosa del genere. Cioè, non so tu, ma vivo questa, questa, quest'epoca, in questi tempi con la solita indecisione o con il dubbio se la mia piccola azione può influire o meno nel contribuire, diciamo, a migliorare quello che è il nostro pianeta. Poi mi sono deciso e ho detto, non importa, non importa se piccola, grande che sia la mia goccia, io lo faccio perché ci credo e quindi magari in determinate situazioni, per esempio, se la carta che ricopre la focaccia è fatta di due veli, uno di plastica e uno di carta, anche se è una rottura di scattoli mi metto lì e separo questi due strati e butto plastica e carta separatamente. E credo che le persone come te, che appunto mi dicevi, a me non mi piace dire agli altri, voi non dovete mangiare la carne perché fa male a voi, fa male agli animali, fa male all'ambiente, ma credo che invece l'esempio che si può dare, quindi vivendo con il tuo molto di più, però l'esempio pesa molto di più della parola, secondo me. Poi ovviamente nel tuo caso la parola serve per poi raccontare quello che fai, chi sei, eccetera, eccetera, però forse l'esempio che tu dai e tutti gli altri, tutte le altre figure come te che fanno questo lavoro possono contribuire effettivamente nel migliorare le cose. No, ma io subito ero un po' abbattuta, all'inizio ce l'avevo quei momenti in cui dicevo sì però lo sto facendo solo io, a che cosa serve, però poi non lo so, ti dai comunque una spinta, vedi quello che fai di buono e non lo so, secondo me alla fine ti appaga anche se lo fai... Sì è anche un discorso tra virgolette egoistico, cioè nel senso... Sì perché alla fine se ti metti a pensare lo faccio solo io è un disastro, se però dici lo faccio e sono contenta e sono soddisfatta di quello che faccio, magari non cambierò il mondo, però per me stessa sono contenta, comunque alla fine a me appaga anche quello, cioè sono contenta anche solo di quello. Poi io cerco di, anche comunque sui social, di mostrare quello che faccio, però è ovvio che uno non farà mai la mia scelta, cioè chiunque non farà mai la mia scelta uguale, però magari guardando delle piccole cose dice ah però lei fa così, vediamo è interessante questa cosa che ha scritto, questa cosa che ha detto, quindi magari o magari a volte racconto anche dei fiori, tipo quello del Topinambur che tutti pensano che sia un girasole, magari guardando il mio video la prossima volta che vanno, è un esempio stupido però la prossima volta che lo vedono per strada dicono ah questo qua è un fiori di Topinambur, l'ho visto perché l'ha messo a Marti, cioè anche quello... Sì sì la conoscenza, la cultura, infatti una cosa che apprezzo è che i social hanno abbattuto la barriera tra spettatore e creator, tra virgolette, perché rispetto alla televisione ci sono molti meno filtri e quindi credo che i social usati, ora viviamo in un mondo in cui banalmente i balletti su TikTok diventano virali, i video comici diventano virali, mentre le cose un po' più culturali è un po' più difficile, anche se è noto più che altro su YouTube che ci sono molti creator che parlano di... cioè fanno divulgazione scientifica, sensibilizzazione su argomenti appunto importanti come la sostenibilità, stanno andando parecchio forte, però il fatto di vedere anche profili social che partono dall'essere piccoli e poi crescono basandosi esclusivamente su dei valori sani e giusti, è difficile o no? Non lo metto in dubbio, però dico cavolo forse è anche il giusto modo per utilizzarli, adesso non è che tutti devono usare i social per questo motivo, però il bene genera bene secondo me, quindi nel senso ti faccio i miei complimenti per quello che valgono. Veniamo un secondo prima di parlare di quello che tu vorrei fare, ok, nei prossimi mesi che mi hai mezzo spoilerato. Ti volevo chiedere una cosa, ho visto che tu oltre a produrre il miele, ok, autoproduci diverse cose. Sì, poche cose. Poche cose, ma per esempio ho visto molti consigli sulla salute, sul benessere della pelle, quindi fare degli impacchi di caffè, olio e devo essere onesto, io credo di essere uno di quei pochi ragazzi che si prende abbastanza cura della propria pelle, quindi devo essere onesto, me ne sono anche salvati alcuni, ho detto voglio provarci. Come ti è venuta questa idea? Eh, appunto perché dal punto di vista natura, cose naturali, fiori, quando poi vai a cercare un tipo di fiore, di solito in qualsiasi libro o su Google, di solito ti esce, fa bene per, fa bene a, e quindi allora, cioè in realtà su Google trovi un po' di tutto, cioè veramente di tutto, quindi ci possono anche essere cose che in realtà non fanno bene, come ti dicono. Però poi di ogni, di ogni cosa mi sono segnata se realmente fa bene e allora ho provato. Ok, sulla tua pelle. Esatto, sì, ho guardato anche diversi blog di, di solito sono tutte signore sui 70 anni che fanno queste cose. Ok. Però mi sono un po', mi sono studiata queste cose e poi ho deciso ovviamente cose che posso fare solo su me stessa. Certo. O posso prepararmi delle creme col miele, con la cera che ora ho su me stessa. Certo. Quindi ora faccio poche cose, nel senso mi faccio giusto degli scrub, dei oli essenziali, burro di cacao perché appunto ho tanta cera, quindi quello, qualche cremina, sì. Ma ho visto che comunque hai tante persone che poi ti commentano, che quindi poi provano quello che tu suggerisci. Poi sicuramente non sarai la prima nel mondo a fare queste cose, però il fatto è che tu lo faccia in questa maniera molto genuina. Sì, in realtà io faccio vedere, non tanto, perché tanti mi scrivono anche, ma me lo vendi? Io in realtà ti sto dando un consiglio che se tu sei a casa, ti manca quella cosa, non hai ancora trovato, non lo so, qualcosa per te stesso, boh, prova a fartelo. Certo. Comunque non ti fa male. E comunque, torniamo al discorso di prima, sostenibilità, cioè utilizzi prodotti che utilizzassi per altre cose. Che tu hai in casa, sì. Esatto, esatto. Ok, invece se vuoi accennare qualcosa sui tuoi progetti futuri. Tu sei ovadese? Sono ovadese. Ok, però adesso stai vivendo? Adesso vivo in Liguria. Ok. E per adesso vivo in un appartamento. Ok. Però ho il progetto di andare a vivere in una casa in mezzo al niente. Ok, quindi come Alessandro Scotto che vive in mezzo al bosco. Esatto, anch'io andrò a vivere in mezzo al bosco. Un po' più al caldo, forse. Ok, forse è un pelo, più caldo in questo periodo. Sì, dove non ho degli obiettivi ben precisi, nel senso ci vogliamo andare a vivere. Ok. Principalmente. Sicuramente inizierò facendo apicoltura, ora ho solo tre arnie, quindi dal prossimo anno che ci vivrò metterò più arnie, farò più miele e poi diciamo che vorremmo avere una vita, parlo di me, il mio ragazzo, basata sull'autoproduzione, quindi cercare di farci tutto noi, qualsiasi cosa, partendo dalle farine al caffè, con delle serie di piante di caffè, a qualsiasi cosa proprio. Tutto quello che usi, praticamente cercare di andare il meno possibile al supermercato. Ok. E ti dico, mi viene in mente sempre mio padre che dice si tornerà ad autoprodursi le cose, mangiare, eccetera, eccetera. Secondo te sì, cioè potrebbe essere una strada che percorreranno in tanti? Sì, secondo me negli anni ci saranno sempre più persone improntate a questo, perché comunque anche i giovani d'oggi, come abbiamo visto, tanti si stanno mettendo nell'ottica di fare cose di questo tipo. È ovvio non tutti, perché poi, no, a parte che non è facile, cioè infatti non è che tutti possono dire ok vado a vivere in quel monte e faccio quello, perché poi c'è gente che lavora in fabbrica, c'è gente che lavora nelle grandi città, quindi è difficile è difficile, è difficile. Comunque io in appartamento qua vado avevo il mio orto sul terrazzo. Ecco, non mostriamo le piante che abbiamo in studio perché faremo una figuraccia, sei d'accordo fra? Salutiamo il nostro regista che chiede le telecamere. Hanno fatto una brutta fine, più volte, però magari ci potrei dare qualche consiglio su come reanimarle, ma per tutti quelli che non lo sapessero, dicono vabbè però è facile, cosa fa lei nella vita? non fa niente? No, tu hai un lavoro. No, io lavoro, faccio la segretaria e faccio la social media manager, quindi comunque lavoro. Certo, certo. Però il tuo sogno sarebbe quello di poter, insomma, diciamo, vivere come creator su te stessa. Sì, esatto, sì, sì. Cercare sulla tua immagine. Sì, sì, sulla mia immagine, insegnare apicoltura, mi piacerebbe tantissimo. E si può? Cioè esiste? Esiste, esiste. Ma non sono delle scuole, sono dei corsi? No, ci sono anche delle scuole, diciamo che la chiamano l'Università degli Apicoltori che è a Bologna, quindi c'è una cosa di questo tipo, però l'ho già fatto, saltiamo quel passaggio. Ok, va bene, va bene. No, mi piacerebbe insegnare tanto apicoltura, sì. Bello. Tra l'altro, adesso non so, eccolo lì, vogliamo mostrare in camera questa candela che hai fatto tu, con il tuo miele, con la cera. Con la cera che l'ho pulita tutta, da tutti i residui delle api e poi l'ho... Si vede? Ok, la diamo in mano a lei così? Sì. Sì, che l'ho fatta con la cera delle api, quella in eccesso ovviamente, l'ho sciolta a bagnomaria, l'ho pulita un po' di volte per togliere i residui, vedi che qua, ad esempio, se vedi questo qua sarà un piccolo residuo rimasto. Ok, ok. E poi, vabbè, basta che l'annusi e lo senti. Fantastico. E questo è un regalo per noi, eh. Grazie Martina. Un sogno del cassetto che ti vorresti elevare, al di là di questo grandissimo sogno che è di vivere in totale autoproduzione, un qualcosa che dici, vorrei riuscire a fare un giorno? Che sia un viaggio, che sia conoscere una persona o... Eh, difficile. Cioè, l'altro sogno che mi piacerebbe, che è comunque difficile anche quello, però riguarda sempre il posto in cui vivo, è avere tantissimi animali di ogni tipo. Ok, perché tu adesso quante animali hai? Se li hai? No, io ho tre gatti, una tartaruga e basta. Ok, ok. Quindi vorresti avere appunto una sorta di fattoria, però vabbè. Sì, esatto. Sì, mi ero anche informata quando guardavo apicoltura sulla pet therapy. Ah, bellissimo. Però un passo alla volta. Ok, beh sì, ora non voglio mettere troppa carne nel fuoco. Ma no, ma è quello che faccio anche io sempre, cioè penso mille cose. Lo dici con calma. Sì, subito sono partita, vorrei fare pet therapy. Però poi mi sono appassionata alle api, che comunque c'è anche api terapia, quindi anche quello... Ah sì? Guarda, conosco una ragazza che produce il miele, che ha le armi che è lei, e che l'hanno punta a una caviglia, gli è venuta una caviglia grossa così. Tu la conosci? Sì, poi troppo sì. Sì, perché non lo facciamo vedere, poverino, ma... Non lo facciamo vedere, se lo volete, non so se si vede neanche, ma... Ok, perché sono inconvenienti del mestiere. Sì, sì, inconvenienti, colpa mia. Eh, perché poi già ti bacchettano gli apicoltori, ti scrivono, attenzione, devi sempre chiuderti bene. È quello che ho sempre fatto io, sempre, quando qualcuno viene, che mi dice fammi vedere le api. Prima regola, chiudersi sempre bene tutto, perché sennò ti fregano. Ok, pensavo non parlare mai dell'apicoltura, come via Fight Club, ma no. No, 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 c'è anche una seconda regola che è ricordati sempre che gli strumenti degli apicoltori occupano tanto spazio. Ah! Non lo so, che poi è vero in realtà. È grande la casa in cui volete andare all'autoprodurli. Sì, però è vero, quando ho fatto il viaggio e che sono venuta a prendere delle cose a Ovada, delle arnie, cioè, ho detto, ho capito quella regola che mi hanno insegnato. Comunque, torno al discorso, poi andiamo a chiudere. Il discorso della pet therapy è veramente molto bella e la mia ragazza vive a Londra e ci sono tantissime fattorie, anche in periferia Londra, in cui appunto fanno queste giornate a tema, dove puoi andare a conoscere, a incontrare gli animali, a passare un pomeriggio con loro, a dargli da mangiare e ci sono anche, invece, percorsi di terapia con gli animali. E io volevo conoscere da vicino l'ippoterapia, che ho scoperto che anche qui vicino a noi viene fatta e praticamente è una terapia per ragazzi con disabilità, a cavallo e mi dicono che avere degli effetti incredibili e quindi sono curiosissimo e vorrei approfondire. Eh sì, no, anche a me mi piacerà. Cioè, forse quello allora può essere il sogno. Vabbè. Perché vorrei avere tanti animali, però devi anche imparare a gestire in un certo modo anche. Perfetto. Martina, ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Non hai dovuto neanche un goccio di spritz, quindi facciamo un cin finale. E ho parlato troppo. No, no, ma è bellissimo. Sono contentissimo. Vi lasciamo il link in descrizione per andare a trovare il suo profilo, andare a curiosare. Io vi invito a condividere questo video con tutti i vostri amici su Facebook, Instagram, Whatsapp, insomma ovunque. Iscrivetevi al canale e rimanete qua perché poi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.